il centro storico si rifà il look in vista del natale cavalca via ecco i motivi dei lavori a singhiozzo parla pesarese la nazionale basket sorde campione d'europa tornano a accendersi i fornelli di master fish su rossini tv una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa serata di mercoledì 27 ottobre apriamo occupandoci di diversi lavori pubblici a pesaro fra opere in agenda cantieri fermi e lavori completati cominciamo da quelli in calendario per l'inverno col sindaco matteo ricci che nelle ultime ore ha anticipato diversi interventi il centro storico punta a rifarsi il look in vista della stagione invernale e in particolare delle periodo natalizio un natale che sarà di nuovo all'insegna di pesaro nel cuore uno slogan coniato dall'amministrazione ricci e che lo stesso primo cittadino ha rilanciato a meno di due mesi dalla festività dopo le celebrazioni con limitatore imposte dalla pandemia del 2020 qualche anticipazione l'ha già fornita lo stesso sindaco nei suoi rinnovati format d'ascolto ai cittadini sindaco per i quartieri e un sindaco in famiglia tenutisi ieri sera qualche esempio è confermata la pista da pattinaggio in una piazza del popolo che a breve sarà sottoposta a diversi lavori ma saranno iniziative festive meno concentrate nel cuore del centro ma più diffuse fra le vie limitrofe in tal senso in via curiel sarà ad esempio posizionato un grande scivolo di ghiaccio dedicato ai bambini quest'ultima strada rappresenta proprio uno dei punti focali dei prossimi lavori dell'amministrazione che punta a valorizzare l'asse della passeggiata che da via curiel conduce a via passeri contemplando via delle contramine e naturalmente piazzali lazzarini sarà una riqualificazione all'insegna del verde e del ripristino della pavimentazione in porfido ammalorata sulla stessa via curiel e anche in via di definizione un progetto che modificherà l'accesso carrabile al centro storico ampliando la parte pedonale lavoro in agenda anche su via passeri dal rifacimento della pavimentazione nei pressi del museo rossini alla programmazione di un percorso pedonale protetto vicino alla biblioteca san giovanni infine rocca costanza ricci ha rivelato che in via di definizione un accordo con agenzia del demanio ministero della cultura e archivio di stato per una ristrutturazione complessiva della rocca all'insegna dell'adeguamento alle più recenti normative di sicurezza in funzione di future iniziative culturali e turistiche e dai lavori del futuro passiamo a quelli del presente che però procedono a rilento uno di questi è il cavalca ferrovia di pesaro l'opposizione in consiglio comunale ha fortemente criticato il passo di lumaca su questa infrastruttura però nella prossima intervista l'assessore all'operatività enzo belloni puntualizza le motivazioni di questo andamento a singhiozzo il cavalca ferrovia è un altro di quei temi caldi no sembra che c'è un cantiere sospeso che non si faccia niente effettivamente noi abbiamo lavorato e impegnato 300 mila euro per la prima parte di lavori nel frattempo due anni fa abbiamo partecipato ad un bando del ministero degli interni che è sul ponte che era relativo ai ponti e ci siamo giudicati un finanziamento di 3 milioni per il cavalca ferrovia e di 440 mila euro per il ponte sul foglia lungo strada del foglia quindi siamo particolarmente attenti a questi banni cosa vuol dire questo vuol dire che l'esegibilità dei 3 milioni è 2022 noi nel frattempo siamo andati avanti con una progettazione complessiva di tutto il ponte abbiamo già fatto un paio di incontri con rfi perché quel ponte lì non è come asfaltare una strada dobbiamo comunque avere tutti nulla osta e gli orari di intervento concordati con con rfi sotto passano i treni quindi è un asse strategico rispetto alla linea a treni italia e noi siamo pronti stiamo continuando a lavorare non ci fermiamo e ripeto appena avremo l'esigibilità dei 3 milioni quindi già con il bilancio 2022 partiremo con il lavoro completo per 3 milioni al momento noi ne avremmo realizzato sì e no un settimo e solo quel settimo ha accubato circa 300 mila euro di lavori più la progettazione l'analisi che avevamo fatto non eravamo rimasti lì a dormire quando ci arrivavano segnalazioni rispetto al ponte non ci siamo limitati a controlli visivi abbiamo fatto un'analisi accurata che anche quella è costata circa 50 mila euro con relativa ai carotaggi e le prescrizioni che sono arrivate riguardano i guardrail non è che riguardano la struttura di per sé quindi i guardrail diventavano pericolosi nel caso di un incidente per quello abbiamo ridotto le carreggiate un arredo urbano che si sta moltiplicando nei parchi cittadini di pesaro è quello dei giochi inclusivi altri ne sono stati inaugurati oggi al parco maestri del lavoro in zona cinque torri continua ad allungarsi la lista dei parchi comunali cittadini di pesaro che hanno una svolta nel senso della inclusività oggi ad esempio siamo al parco maestri del lavoro in via volontari del sangue zona cinque torri dove viene di fatto inaugurata la nuova area inclusiva ad esempio vedete al mio fianco il pannello ludico sensoriale una delle installazioni dedicate a tutti disabili normodotati bambini di ogni tipo che possono divertirsi in questo parco possono farlo con un'altalena inclusiva possono farlo con un tavolo da picnic inclusivo ma anche con panchine adatte alle carrozzelle un grande progetto un progetto interforze tra amministrazione comunale l'unione italiana lotta alla distrofia muscolare e il centro servizi volontariato assieme a loro anche la scuola pirandello che questa mattina e non solo questa mattina è stata coinvolta in un percorso di sensibilizzazione al diritto al gioco e all'inclusione oggi finalmente riusciamo ad arrivare al traguardo che ci eravamo prefissi cioè installare in un parco comunale dei giochi che possono essere usati da tutti in pratica sia dai ragazzi abili e che dai ragazzi disabili ma non mi piace chiamarli disabili magari fragili oppure abili diversamente e finalmente siamo riusciti ad arrivare a questo a questo traguardo grazie grazie al finanziamento del del ministero del lavoro delle politiche sociali che ha fatto la nostra will dm nazionale ha fatto suo questo progetto e ha chiesto a noi a noi sessioni se volevamo partecipare a questa iniziativa e noi come come sessioni di abbiamo ci siamo subito ci siamo subito diciamo rimboccate le maniche per poter avere avere i permessi la possibilità ci siamo rivolte il comune il comune ha risposto risposto egregiamente a queste iniziative ed è felice di diciamo di implementare in un parco come questo giochi anche per disabili il centro istituzione per il volontariato da sempre ha un ruolo fondamentale quello di essere un po da collante da coordinatore tra le varie realtà associative della nostra provincia in questo caso è riuscito a come dire mettere insieme le esigenze di questo bellissimo progetto che ha presentato will dm insieme alle realtà del territorio quindi l'amministrazione comunale e la scuola istituto comprensivo pirrandello quindi quello che il csv dovrebbe sempre fare è proprio questo cioè essere l'occasione per mettere al tavolo tutte le realtà che hanno voglia di portare un progetto qualcosa di innovativo per la nostra provincia e lo fa grazie ai volontari delle tante associazioni grazie anche ai nostri operatori di sportello che ogni volta voglio ringraziare perché è il loro spunto il loro lavoro tutti i giorni che fa sempre la differenza quindi grazie a francesca e a luca continuano ad attestarsi quotidianamente attorno alle 100 unità i contagi da covid 19 nelle marche di questa settimana oggi ne sono stati rilevati 105 di cui 24 in provincia di pesaro urbino salgono i ricoveri nelle marche di tre unità ora sono 59 di cui 17 in terapia intensiva oggi si sono purtroppo registrati anche i decessi di due donne una 88enne di civita nova e una 93enne di arcevia ancora sanità ma in questo caso parliamo di un momento di confronto fra professionisti del settore quelli in particolare di gastroenterologia ed endoscopia a congresso venerdì e sabato all'hotel savoy di pesaro un reparto quello di gastroenterologia che è stato recentemente inserito nelle classifiche delle eccellenze internazionali dell'ultimo anno un anno in cui il reparto non ha mai fermato la sua attività nonostante la pandemia come ci spiega il primario di Marche Nord Antonella Scarcelli sicuramente è stata una bella scommessa quella di organizzare il congresso in presenza e la fortuna ci ha aiutato quindi avremo questa opportunità importante di riconfrontarci con i nostri colleghi sia della regione che dell'Emilia Romagna piuttosto che di altre regioni su temi importanti che sono quelli gastroenterologici più rilevanti avremo la tematica in urgenza il congresso saranno effettuato a pesaro all'hotel savoy e interverranno esperti della della materia questo momento di confronto arriva in un periodo di tanti riconoscimenti per Marche Nord anche nello specifico del vostro reparto classifiche che vi mettono tra le eccellenze nazionali e non solo questo ci ha veramente gratificato anche perché come lei diceva durante la pandemia la gastroenterologia non si è mai fermata ha garantito come sempre le urgenze provinciali quindi non solo per l'ospedale di Marche Nord ma anche per la provincia di pesaro e di urbino ed è soprattutto andata avanti anche con quelli che erano i progetti regionali come quello dello screening che pur in pandemia è stato garantito ai pazienti e l'aver avuto questo riconoscimento della new week ci rende veramente orgogliosi di far parte comunque di un'azienda Marche Nord che ha avuto altri riconoscimenti oltre quello della gastroenterologia comunità di Montecchio di Vallefoglia in lutto per l'improvvisa morte a 52 anni di Katia Angelini la donna molto conosciuta nel territorio di Vallefoglia è stata trovata senza vita nel suo letto nella serata di ieri ad accorgersi del decesso la madre che conviveva appunto con la donna il 118 intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso sono però in corso accertamenti per comprendere meglio le cause della morte cambiamo argomento a pesaro si intensificheranno i controlli nel centro storico e nella zona mare per verificare il rispetto del decoro previsto dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche lo ha comunicato oggi l'assessore Francesca Frenquellucci ricordando come gli esercizi commerciali dovranno essere tenuti ad esempio con una pulizia costante delle saracinesche delle vetrine e degli spazi compresi tra le serrande e le entrate previsto anche il divieto di affissione esterna interna alle vetrine di manifesti volantini avvisivari o fogli di giornali e simili nonché vanno rimosse le insegne degli esercizi cessati parliamo anche di prossimi appuntamenti in questa stagione autunnale dopo un anno di stop per covid torna il 7 e il 14 novembre cartoceto ad op il festival mostra mercato dell'olio e dell'oliva una 44esima edizione del festival dedicato all'olio di cartoceto fra enogastronomia natura e musica nella prima domenica sarà infatti presente chiara civello cantante e polistrumentista premiata e riconosciuta in tutto il mondo accompagnata al piano da un grandissimo nome del jazz internazionale come rita marco tulli già davidi donatello per la colonna sonora delle film basilicata cost su cost la domenica seguente il 14 di novembre si esibirà invece il cantante bungaro ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni la foto che vi mostriamo oggi riguarda la denuncia di uno scriteriato abbandono di rifiuti in via serra nell'area adiacente ai capannoni aziendali appunto di questa zona di villa fastigi abbandono di rifiuti ma ricordiamo che marche multiservizi e comune hanno da settimane attivato fototrappole a rotazione in giro per la città e che dunque questi leciti hanno già portato a una ventina di multe nel solo mese di settembre e allo stesso modo vi ricordiamo il nostro numero whatsapp dedicato alle segnalazioni 3 7 0 3 6 6 7 2 1 0 segnalazioni in cui potete inviarci foto o video di tutto ciò che non va nel territorio ma anche di positive curiosità ed ora cambiamo argomento due nostre colleghe giornaliste pesaresi come beatrice terenzi e elisabetta ferri sono state questo weekend fra le protagoniste assolute di un'impresa memorabile la vittoria della medaglia d'oro della nazionale italiana basket sorde ai campionati europei tenutisi a pescara le due giornaliste dieci anni fa è proprio da pesera hanno dato vita a questa squadra nazionale che sabato a pescara si è messa la al collo la medaglia d'oro battendo in finale la russia è un esatto storico ma in italia successe una squadra di basket femminile e maschile vincesse un titolo europeo ne siamo orgogliose fiere perché è nata pesaro non solo grazie a noi ma grazie alle sedi sordi pesaro grazie a pittor pozzoli che fu il primo allenatore e appunto anche a cinzia carloncini che ci ha aiutato a organizzare i primi allenamenti nella palestra di borgo santa maria beatrice ci ha ricordato i protagonisti delle origini ma andiamo anche sul presente di chi ha portato questo trionfo sì anche qui c'è un cuore pesarese perché la nostra allenatrice sarà braida l'abbiamo conosciuta proprio a pesaro quando lei era una giocatrice dell'olimpia basket siamo diventate amiche e in quel momento usciva dopo il primo anno di esperienza a merien diglier che anche lei ha vissuto qua in città e che si trasferiva e quindi avevamo bisogno di un altro coach e abbiamo chiesto a lei e ha dato la sua disponibilità ed è con noi da ben nove anni dal 2012 quindi ha visto proprio l'evoluzione di una squadra che prima non sapeva giocare a palacanessa diciamo la verità noi avevamo trovato due ragazze che veramente militavano in squadre udenti perché ricordiamo che noi essendo l'unica squadra sorde le ragazze devono per forza giocare con le udenti bisogna essere insomma abbastanza forti per poterlo fare quindi all'inizio non riuscivamo a trovarle ma c'erano erano nascoste e le abbiamo scovate piano piano all'inizio la squadra aveva atlete che provenivano da altri sport abbiamo avuto gente che giocava a ping pong a calcetto che faceva atletica avevano solo voglia di fare sport e dopo grazie a Sara c'è stata proprio un cammino anche tecnico oltre che caratteriale che ha portato davvero una squadra vera diciamo che dal 2016 con la prima medaglia a Salonico agli europei di Salonico c'è stata la svolta e da lì abbiamo cominciato un altro tipo di cammino ecco quindi siete arrivate a pescara con la convinzione di dire ok proviamo a vincere veramente ci hanno messo molta pressione addosso anche la federazione la fsi a cui noi siamo affiliati grazie alla quale facciamo questa attività aveva sparso la voce a pescara che noi fossimo la squadra favorita questa cosa ci aveva messo un po di ansia addosso soprattutto alle ragazze perché è vero che nelle ultime competizioni erano sempre andate sul podio però tra vincere la medaglia di bronzo e la medaglia d'oro sai bene che mancano due partite cioè bisogna vincere la semifinale che non avevamo mai vinto erano sempre usciti in semifinale e poi bisogna vincere la finale che lo scoglio più duro perché a quel punto sai già di avere una medaglia al collo oro o argento e c'è il rischio anche di non entrare con la stessa rabbia di quando sai che se perdi sei eliminato quindi è stato molto duro il primo tempo anche perché sugli spalti c'erano tutte le famiglie i genitori gli amici visto che giocavano in italia e loro erano emozionatissime quindi dopo negli spogliatoi la l'allenatrice ha dato una bella strigliata e si è riusciti a tirar fuori il carattere che serviva per per portarla a casa la vostra è una carriera professionale spesa interamente nel giornalismo nello sport e in particolare anche nelle basket quale è stata all'epoca la molla che vi ha fatto unire lo sport a una disabilità che presumo conoscevate marginalmente si conoscendo la sedi sordi pesero appunto la carloncini ci disse che non esisteva una squadra di basket e in italia femminile maschile c'era e quindi mi ha deciso di costruirla a due anni prima precedenti ai mondiali di palermo 2011 mondo nuovo che ho imparato a conoscere a vivere piano piano la federazione sport sordi mi ha dato questo ruolo e appunto appena ho creato la squadra insieme a betta e niente il mio ruolo è quello di manager c'è di creare di trovare giocatrici di creare la parte logistica dei viaggi e dei trasferti dei sponsor e tutta la parte siamo che fuori dal campo mentre elisabetta si occupa della comunicazione a inizio era dura mandare comunicati e farseli pubblicare ora invece ci cercano per intervistare ragazze per creare per raccontare la nostra e nostra la nostra impresa e sta per tornare uno dei programmi più apprezzati e seguiti da voi telespettatori di rossini tv parliamo di master fish il pesce va in onda ovvero la seconda edizione del format che vede chef amatoriali sfidarsi a piatti di pesce nei ristoranti del territorio proprio davanti alle telecamere di rossini tv una nuova stagione che è stata presentata oggi allo spazio conad che è uno dei partner assieme a camera di commercio istituto alberghiero santa marta che collaborano al programma prodotto da confesercenti pesaro e urbino vediamo le le interviste realizzate in questa conferenza di presentazione da emanuela rossi è stata presentata oggi all'interno di spazio conad la nuova stagione di master fish il pesce va in onda presentate in anticipo perché le riprese inizieranno a breve intanto vi dico già che la prima puntata andrà in mondo a partire da martedì 23 novembre alle 21 20 su rossini tv il capitano di questa nave è sempre lui paolo pagneni eccomi allora molto contento molto contento perché siamo riusciti a far partire questa seconda edizione non è stato facile perché dopo tutte le cose legate al covid le cose da decidere da definire sono tante però sono state risolte tutte per cui siamo pronti a partire con questo piccolo sfasamento che c'è tra la registrazione e la messina in onda che però è un segnale importante perché vuol dire che avremo più tempo per fare delle cose meravigliose in sede di montaggio e far venire fuori delle puntate scintillanti e bellissime secondo me ricordo quindi subito al pubblico che la prima registrazione ci sarà il martedì 2 novembre ristorante settima fila quindi sin da ora potete chiamare il ristorante per notare la vostra cena una cena chiaramente particolare soprattutto essere presenti assistere a un programma televisivo ecco quello è il punto se dovete scegliere una sera per andare a cena scegliete una delle serie di master fish perché mangiate benissimo perché chiaramente potete immaginare cosa stanno preparando i ristoranti e in termini di menù spendete poco perché il prezzo è calmierato bevete in una maniera meravigliosa sopraffina e perfetta come abbinamento e tutto quanto e in più partecipate a quello che è l'evento televisivo di questo fine anno più di così non si può ripartiamo con lo stesso entusiasmo l'entusiasmo di fare una nuova iniziativa con diverse tappe per arrivare a una serata conclusiva dove i vincitori si cimenteranno nella sfida finale per definire diciamo il vincitore di questa edizione 2021. Dicevo prima che gli ingredienti ci sono tutti per mettere insieme innanzitutto la qualità, la voglia di fare, la voglia di condividere i migliori prodotti del territorio, condividere la capacità di saper cucinare, la voglia di stare insieme e sulla base diciamo di questi presupposti siamo tutti più che entusiasti nel volere dare lancio a questa nuova iniziativa. Io sì sono molto entusiasta per un motivo molto semplice nella prima edizione o chiamiamola la numero zero no che era dove eravamo tutti un po' con un po' di paura nell'affrontare una situazione nuova ma anche un format televisivo sul quale nessuno di noi aveva idea. Mi sono divertito, ci siamo divertiti, ci è divertita tutta la redazione della trasmissione, ci sono divertiti i concorrenti ma soprattutto i ristoratori perché hanno avuto la possibilità due anni fa fortunatamente in un momento pre-covid hanno avuto la possibilità di avere a che fare con dei dilettanti, con delle persone appassionate e qui viene fuori tutto quello che è l'obiettivo di Confesercenti che è quello di promuovere i prodotti del territorio. In questo caso ci siamo divertiti ma dietro tutto questo progetto che lo vediamo come una cosa molto seria e che in futuro lo vorriamo rafforzare tant'è vero che insieme a noi ci sono già degli operatori istituzionali che già ci affiancano in questo cammino a cominciare dal Comune di Pesero, la Camera di Commercio delle Marche, sponsor privati oppure c'è l'Istituto Alberghiero al quale viene rinnovata la collaborazione con noi, crediamo molto nel futuro dei ragazzi dell'alberghiero perché nel futuro saranno loro i testimonial dei prodotti del territorio. Giusto oggi valorizzare questo evento che è fondamentale, è fondamentale per i ristoratori ma anche per i prodotti enogastronomici del nostro territorio. Valorezzare non solo il cibo ma anche la storicità del prodotto è importante e devo dire, lo ribadisco qui alle vostre telecamere, che TV Rossini sta facendo una serie di incontri che riguardano il nostro territorio e vanno nella direzione giusta che è quello di valorizzare non solo il prodotto enogastronomico ma tutto il nostro territorio. Quindi complimenti a tutti, complimenti a Confesercenti, anche all'Istituto Alberghiero e quindi presto ci saremo anche noi con un progetto dove tutte queste persone che oggi presentano Masterfish saranno presenti ad un altro progetto che è organizzato anche dal Comune di Pesaro. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Aspettando la nuova edizione di Masterfish che vi abbiamo appena anticipato in questo servizio andiamo a vedere cosa propone questa sera la prima serata di Rossini TV. Prima serata che comincia alle 20.15 con lo speciale realizzato in occasione dell'inaugurazione della nuova palestra dell'alberghiero Santa Marta. A seguire alle 20.30 spazio allo sport è un grandissimo evento che Rossini TV trasmette in diretta la prima partita del main round di Champions League in diretta dall'RDS Stadium di Rimini. Di tal service Pesaro se la vedrà con i russi del Tumen. Ancora sport ma nella serata di domani giovedì è la giornata di insieme a Canestro. Arriva la terza puntata con gli ospiti di Marco Cadedu rigorosamente in diretta alle 21.20. Ospiti che per l'occasione saranno l'ala della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Simone Zanotti e l'opinionista Alfredo Carboni. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione non resta che salutarvi, lasciarvi alle previsioni del tempo e augurarvi una buona serata con i programmi di Rossini TV.